In occasione delle feste natalizie torna per il terzo anno consecutivo il paniere delle eccellenze della fondazione Ant presentato nella sede della giunta regionale. Con una donazione di 20 euro sarà possibile portare a casa oppure regalare il paniere delle eccellenze e così contribuire al progetto di assistenza medico-specialistica domiciliare dell'Ant. Ogni borsina di iuta contiene quattro prodotti tipici della tradizione enogastronomica toscana, vino, olio, biscotti, marmellate forniti da numerose aziende locali. Aziende che utilizzano prodotti a chilometro zero, che fanno una produzione di alto livello e che quindi possa in qualche modo testimoniare non solo la qualità dell'agroalimentare toscano ma anche la qualità del mangiare bene e quindi della prevenzione e della salute che ha legato alla sana e corretta alimentazione. In oltre 20 anni di attività Ant Toscana ha portato cure specialistiche nelle case di oltre 6.700 ammalati di tumore e ha offerto ai cittadini migliaia di visite di prevenzione oncologica gratuita. Un'azione costante, assolutamente rilevante di assistenza ai malati nel settore oncologico con senso della misura, vicinanza, oltre le strutture sanitarie pubbliche offrono in Toscana un servizio sicuramente unico, ripetibile e insostituibile. Il progetto del paniere delle eccellenze è realizzato in collaborazione con Vetrina Toscana. Credo che sia una bellissima iniziativa, naturalmente invito tutti a dare una mano e in occasione delle vacanze di Natale a fare un gesto sicuramente di solidarietà ma poi anche a portarsi a casa delle cose molto buone.